Negativi i tamponi sui dipendenti del primo piano della RSA di Bucine. Finalmente una buona notizia, anche se ancora i test non sono stati effettuati sulla totalità del personale, ma adesso si sa che in 29 non hanno contratto il contagio. Alla luce dell'esito dei tamponi, dunque, i dipendenti potranno continuare ad operare. Resta invece l'attesa per i tamponi sugli anziani ospiti. Nella struttura di Bucine, infatti, nei giorni scorsi erano stati individuati 22 casi positivi tra gli ospiti, uno dei quali è deceduto giovedì sera e otto tra il personale. I contagi avevano interessato unicamente il piano zero della struttura. Nei giorni successivi, poi, anche altri tre anziani erano risultati positivi al covid-19. Sono stati così messi in campo interventi straordinari per gestire l'emergenza, tra cui la consegna straordinaria di mascherine a tutto il personale della RSA. Sino al termine dell'emergenza, infine, il piano terra diventerà un modulo di cure intermedie in sostituzione dell'attuale modulo di RSA, la cui gestione viene presa in carico direttamente dall'azienda sanitaria. Sarà così l'Asla Toscana Sud-Est ad occuparsi della gestione dell'assistenza infermieristica e di supporto nel modulo cure intermedie.